Buonasera e bentrovati da Ultima Tg in apertura del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di una vicenda, quella relativa a Luigi Licari, il vigile urbano di Catania, ha aggredito lo scorso 2 novembre perché oggi è arrivata la sentenza del Tribunale di Catania. Quattro anni e dieci mesi la condanna per il 22enne accusato di aver aggredito proprio Luigi Licari. Quattro anni e dieci mesi di reclusione per Orazio Di Grazia, il 22enne, che lo scorso 2 novembre insieme ad altri complici aveva aggredito e ridotto in fin di vita il vigile urbano Luigi Licari, di 57 anni. La gente quel giorno era in servizio in via del Roto, nei pressi dell'area pedonale del lungomale di Catania e secondo le ricostruzioni del caso, l'ispettore era stato in un primo momento avvicinato da un uomo a bordo di un motorino. Dopo il rifiuto ad accedere alla zona pedonale con lo scooter, Di Grazia si sarebbe allontanato in un primo momento per poi ripresentarsi sul posto accompagnato da una decina di persone, non tutte identificate, da cui il pestaggio con il colpo alla testa e la gente che arriva al suolo. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro, le sue condizioni sono risultate molto gravi sin dall'inizio, con un delicato intervento chirurgico alla testa e il successivo trasferimento in un centro specializzato di cefalo, in provincia di Parermo. Il ritorno a casa soltanto alcuni mesi dopo. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Giancarlo Cascino, che ha stabilito anche un risarcimento danni di 8.000 euro nei confronti delle parti lese per il pagamento delle spese processuali e il risarcimento danni. L'accusa, presentata in aula dal Pubblico Ministero Santo di Stefano, aveva chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi. L'imputato ha beneficiato però di uno sconto di un terzo della pena, in virtù della scelta del giudizio corrita abbreviato. Aumentata dunque di sei mesi, la condanna è inizialmente richiesta dalla Procura. Arrivano novità anche relative all'inchiesta Double Face. L'ex assessore regionale Marco Venturi aveva parlato all'antimafia di Antonello Montante, chiedendo alla politica nazionale di intervenire per allontanare l'ex presidente di Sicindustria dalle cariche istituzionali. L'audizione secretata diventa oggi pubblica e svela nuovi dettagli anche sulle aree industriali. Tutte le mie domande ha fatto. E poi ancora, ha fatto mala figura. Le parole intercettate di Antonello Montante, arrestato nei giorni scorsi, mentre parla con Linda Vancheri, spiegano come già l'ex presidente di Sicindustria Sicilia sapesse tutto dell'audizione secretata di Marco Venturi davanti alla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi e tenuta nel dicembre del 2016. Forse una talpa dentro la Commissione aveva detto tutto. Oggi quell'audizione diventa pubblica e apre uno squarcio sul mondo dell'antimafia di facciata con danni irreparabili alla Sicilia e all'impegno dell'antimafia, quella vera. Venturi in quell'audizione parla a lungo. Io e Alfonso Cicero, ex presidente dell'IRSAP, abbiamo paura, diceva, e spiega perché Cicero era stato allontanato dopo che aveva fatto diverse denunce, forse troppe, e ricevuto anche minacce. Poi dettagli importanti su un accordo tra Confindustria e Lombardo che di fatto avrebbe spaccato il centro-destra per far vincere Crocetta. Venturi all'antimafia racconta anche della presenza della mafia nelle aree industriali dove fin dagli anni Ottanta arrivarono fiumi di denaro che crearono agglomerati industriali che poi non portarono però a nessuna impresa sana. Ed infine un avvertimento, quello più importante. Attenzione a Montante, diceva, è pericoloso. La politica nazionale deve intervenire al più presto sull'uomo che è a capo della Camera di Commercio e ricopre ruoli istituzionali. Restiamo all'interno delle aule giudiziarie per parlare dell'inchiesta Black Job. Il Tribunale del Riesame deciderà entro lunedì se sono ancora necessarie le misure cautelari per Forzese, Amic e Nicotra coinvolti nell'inchiesta Black Job che ha svelato un sistema di corruzione all'interno dell'Ispettorato del Lavoro di Catania. Ieri il Pubblico Ministero Fabio Regolo, dopo gli interventi degli Avvocati, ha insistito sulla gravità dei fatti. Le pratiche dei controlli all'Ispettorato del Lavoro sparivano facilmente. Va avanti l'inchiesta della Procura della Repubblica sull'operazione Black Job. Dopo gli arresti del direttore dell'Ispettorato del Lavoro, Domenico Amic, del politico Marco Forzese e dell'ex consigliere comunale di Forza Italia, Nino Nicotra, tutti accusati a vario titolo di concorso in corruzione continuata, soppressione, falsità materiale e ideologica di atti pubblici, arriva anche la richiesta di revoca da parte dei difensori sulle misure cautelari. Prima gli interrogatori di garanzia e la violazione dei domiciliari del direttore Amic, finito in carcere perché, dopo aver reso dichiarazioni spontanee e risposto ai magistrati in Piazza Verga, si è recato a casa della fidanzata, con cui continuava ad avere anche contatti telefonici. Adesso arriva l'udienza davanti al Tribunale del Riesame. Ieri i difensori hanno chiesto la revoca delle misure cautelari. Marco Forzese è ancora ai domiciliari, così come Nino Nicotra. Una lunga udienza dove prima hanno parlato gli avvocati e poi il PM a capo delle indagini, Fabio Regolo. Il pubblico ministero ha insistito sulla gravità dei fatti commessi, toccando punto per punto le singole posizioni. I fatti emersi dall'inchiesta, anche grazie alla collaborazione di alcuni funzionari pubblici, hanno svelato un vero e proprio circuito corruttivo, alimentato da saldi, legami di amicizia, incarichi, favori, in cambio di voti. Il tutto svolto con una normalità quasi inquietante, come se in Sicilia fosse normale. La decisione del Riesame arriverà entro lunedì. Daniele Fregapane, 33enne Agrigentino, personaggio di spicco di Cosa Nostra, rientra oggi in Italia, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ma vediamo di chi si tratta nel servizio di Giuseppe Castauto. Stimato calciatore, attaccante capitano di una squadra dilettantistica della provincia di Liegi, in Belgio, ma nello stesso tempo ricercato e dunque latitante dalle autorità italiane per associazione mafiosa. Si interrotta oggi la latitanza di Daniele Fregapane, 35enne di Sant'Elisabetta, cugino di Francesco Fregapane, ritenuto a capo della mafia agrigentina, entrambi coinvolti nella maxi-operazione denominata Montagna, condotta dai carabinieri di Agrigento, che ha portato all'arresto di 58 presunti boss e gregari della provincia agrigentina. Fra questi c'era anche Daniele Fregapane, ma quando la sera del 22 gennaio i carabinieri del comando provinciale bussarono alla sua porta, lui era già in Belgio. E lì, in una tranquilla cittadina belga, ma con una forte presenza di emigrati agrigentini, Fregapane si era inserito molto bene. Diventa dirigente sportivo della squadra di calcio del paese in cui gioca ed è capitano. L'arresto, dopo una mirata attività investigativa, è avvenuto grazie alla cooperazione con le forze dell'ordine del Belgio. Fregapane è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, dove ad attenderlo c'erano i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Arriva la sentenza di primo grado, nel processo che vede coinvolti Alessandro Sallusti e Vittorio Sgarbi per un articolo sul quotidiano Il Giornale, che secondo i giudici era diffamatorio nei confronti del magistrato palermitano Nino Di Matteo. Il direttore del giornale, l'ex assessore regionale, dovrebbero scontare la pena in carcere qualora non chiedessero una misura alternativa alla detenzione come l'affidamento in prova. Questo perché il giudice di Monza, sede del processo, non ha applicato la sospensione condizionale. Nel 2012 Alessandro Sallusti venne condannato per diffamazione a 14 mesi di reclusione dalla Cassazione e dopo aver scelto di non chiedere l'affidamento, finì ai domiciliari, fino a quando l'allora Presidente della Repubblica, Napolitano, gli concesse la grazia. Passiamo adesso alla cronaca. Un incendio è stato appiccato da ignoti la notte scorsa nella chiesa Madonna dell'Aiuto alla Sciara di Tre Castagni nel Catanese. Nella chiesa sarebbero stati portati tre contenitori di liquido infiammabile, uno dei quali è stato ritrovato intatto sul posto. Si sono recati i carabinieri che hanno compiuto i rilievi del caso e hanno dato inizio alle indagini. Era da poco passata luna di notte quando ai vigili del fuoco di Acireale e ai carabinieri del distaccamento di Tre Castagni in provincia di Catania sono arrivate decine di chiamate che avvisavano delle fiamme all'interno della piccola chiesa Madonna dell'Aiuto della Sciara, chiesa pregetissima del XVII secolo. All'interno della piccola chiesa sono stati ritrovati i contenitori di benzina e delle micce. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio solo intorno alle 3.30 di questa mattina. L'incendio, doloso, è stato appiccato dai ignoti anche nella statua della Madonna dopo che è stata avvolta in un tessuto imbevuto di liquido infiammabile. La statua è rimasta danneggiata. Nella chiesa sarebbero stati portati tre contenitori di liquido infiammabile, uno dei quali è stato ritrovato intatto. L'irrogo pare sia divampato dalla sagrestia. Lo scoppio di una delle finestre su Via Teresa di Calcutta ha anche danneggiato alcune macchine posteggiate. Testimoni dichiarano di aver sentito odore di benzina già durante la messa del pomeriggio di ieri. Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto scientifico che hanno compiuto alcuni rilievi. Indagini sono ancora in corso. I locali della chiesa sono al momento inagibili. I carabinieri di Modica hanno arrestato dieci persone nell'ambito di una vasta operazione antidroga. L'indagine coordinata dalla procura di Ragusa ha permesso di sgominare una banda di spacciatori di hashish, marijuana e cocaina che operava a Modica. Una fitta rete di intrecci della criminalità modicana nel settore della vendita di sostanze supefacenti è un luogo di incontro, una piccola impresa di ristrutturazione. Sono dieci le persone arrestate tra italiani e stranieri a Modica nel Ragusano. L'indagine deriva dall'operazione Pittore Barocco, un'articolata attività investigativa condotta dal nucleo operativo della compagnia di Modica nell'ambito dei servizi esterni volti alla repressione dello spaccio degli supefacenti. In una prima fase i militari hanno sequestrato oltre 250 grammi di hashish suddivisi in due panetti e stecchette già pronte per la vendita ad Arkef Neila e Aziz Zagham. Partendo da questa efficace azione di repressione i militari hanno scoperto numerosi episodi di spaccio e hanno individuato altre persone coinvolte nel commercio illegale come il pregiudicato Mohamed Kantar, personaggio astuto che non solo collaborava con i due extracomunitari per la conduzione dell'attività illecita ma a sua volta era riuscito ad inserirsi nel tessuto sociale locale facendosi aiutare da persone del luogo tra cui alcune incensurate per evitare qualsiasi tipo di controllo. Tra queste Laura Curto, giovane ragazza che aiutava l'operato di Mohamed e il fratello Giovanni Curto che aveva il ruolo di corriere arrestato perché trovato in possesso di 90 grammi di marijuana. E poi Rosario D'Amico arrestato perché trovato con tre chili di hashish nascosti tra gli attrezzi da lavoro. Proprio questi ultimi utilizzavano come copertura l'attività d'impresa di ristrutturazioni intestata al Kantar non solo per utilizzare il linguaggio criptico per indicare la sostanza ma anche per effettuare i numerosi viaggi a Catania per trovare, acquistare e trasportare grossi quantitativi di sostanza con la collaborazione di Francesco Di Mauro. Un ultimo fronte è quello rappresentato dai rumeni Adina Tuader, compagna di Aziz e Radu Nicifor suo connazionale spacciatore. 15 le persone coinvolte 10 arrestati i militari hanno inoltre sequestrato oltre 4 chili di stupefacenti. Nuova aggressione ai danni di un clochar a Palermo la vittima è un senza tetto di 24 anni originario del Bangladesh trasportato d'urgenza all'ospedale civico. Lo hanno picchiato per pochi spiccioli ma non è da escludere che chi ha commesso l'aggressione lo abbia fatto per futili motivi. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato picchiato un clochar che da tempo ha trovato un giaciglio in via Puglisi Bertolino a due passi dal Politiama. L'uomo è stato aggredito da tre giovani che lo avrebbero immobilizzato per rubargli le poche cose che conservava nel suo giaciglio di fortuna. Gli aggressori lo hanno picchiato selvaggiamente con calci e pugni e dopo aver rovistato tra le sue cose la ricerca di denaro si sono dati alla fuga scappando tra i veicoli di Borgo Vecchio. Sulla vicenda indaga la polizia che sta cercando di risalire agli aggressori. L'uomo ha riportato ferita al volto che secondo i medici saranno guaribili in pochi giorni ma resta alto l'allarme per l'ennesimo caso di aggressione e danni di un senzatesto. Adesso al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. C'è una gelateria un locale ed è il marciapiede nella zona di Piazza Storzo. I giorni dopo l'aggressione l'uomo è tornato al suo posto ma il timore è quello di altra aggressione e i danni di altre persone che dormono in strada. Durissima la condanna delle associazioni che ogni notte presidiano il territorio dando un pasto caldo e clochard della città. L'altra sera a dare l'allarme è stato un passante che per prima ha soccorso l'uomo ma ci sono alcune zone delle città poco frequentate ed è proprio lì più alto il rischio di aggressione. Facciamo un passo indietro per dare una notizia relativa al caso Montante indagata nell'inchiesta della DDA di Caltanissetta per il presunto sistema di potere messo in piedi da Antonello Montante Maria Grazia Brandara si è dimessa da commissaria del comune di Licata nell'Agrigentino lo ha comunicato con una lettera al presidente della regione Nello Musumeci dopo un'attenta riflessione susseguente al ricevimento dell'avviso di garanzia relativo al cosiddetto caso Montante ho maturato l'idea che oltre ad essere integri sia necessario anche a parirlo scrive Brandara pertanto pur se la coscienza con la coscienza della mia estrenità e i fatti penalmente rilevanti ritengo sia necessario rassegnare le mie demissioni da commissario straordinario del comune di Licata con effetto immediato Brandara viene citata nell'ordinanza del GIP come facente parte della cricca di Montante che l'avrebbe indicata alla guida dell'IRSAP l'istituto per la gestione delle aree industriali in Sicilia che dipende dall'assessorato alle attività produttive delega che all'epoca era nelle mani di Mariella Lobello anche lei indagata e ritenuta espressione di Montante nella giunta di Rosario Crocetta pure lui indagato nell'inchiesta adesso cambiamo argomento parliamo di politica in particolare delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 10 giugno tra i comuni che andranno al voto ci sarà anche Catania finita la parentesi per la presentazione delle liste i candidati alla poltrona più importante di Palazzo degli Elefanti presentano una parte della loro giunta in caso di vittoria alle urne consegnati i loghi liste e nomi dei candidati comincia ufficialmente la competizione per insediarsi a Palazzo degli Elefanti la ricerca del voto quella ufficiosa è cominciata da tempo tra colpi bassi scambi di accuse e passaggi dei singoli candidati da uno scheramento all'altro resta ancora in sospeso la questione legata al fatto se la scelta del primo cittadino di Catania arriverà già al primo turno oppure bisognerà aspettare il ballottaggio tra i due maggiori candidati le proiezioni e i sondaggi sono già cominciati ma solo alle urne il 10 giugno spetterà l'ultima parola per ora la certezza dalla collezione di centrodestra a quello di centrosinistra passando per i 5 stelle Abramo e Pellegrino sono gli assessori designati in caso di vittoria Bianco il sindaco uscende fa affidamento ad Orazio Arancio Antonio Mannino Ersilia Saverino e Giuseppe Gianluca Costanzo mentre il centrodestra schiera Roberto Bonaccorsi Sergio Parisi Fabio Cantarella e Ludovico Balsamo c'è poi Abramo con Giulio Toscano Massimo Ferrante Maria Luisa Gambina Lorenzo Moncada Paternò Castello e ancora Giovanni Grasso Matilde Montaudo Gianfranco Caudullo Guido Ciravolo Loredana Mazza per i 5 stelle Riccardo Pellegrino invece mette in campo Giacomo Dugo Enrico Lamalfa settimo Daniele Rizzo e Fabio Ursino le liste ovviamente non sono ancora complete per vedere la giunta comunale dello schieramento che uscirà vincitore alle elezioni comunali 10 giugno ultimata occorrerà ovviamente aspettare i dati delle urne in base alle percentuali e alle correnti di ogni singolo schieramento comincerà la corsa a quelle poltrone che per ora restano vuote Un emendamento del governo regionale ha previsto l'istituzione di un albo unico per gli operatori del settore della formazione la prossima settimana ha previsto il voto in aula proprio su questo tema Vicenda attravagliata quella che negli ultimi anni ha investito il settore della formazione in Sicilia sono all'incirca 6.000 infatti gli operatori che hanno perso il lavoro molti di questi sono stati licenziati dai loro enti di appartenenza durante i cinque anni del precedente governo regionale enti che nella maggior parte dei casi non esistono più e la novità per questi lavoratori sta in un emendamento al collegato alla finanziaria una norma voluta dal presidente Musumeci che prevede la costituzione di un albo unico per gli operatori della formazione un albo questo ad esaurimento dove confluiranno tutti i soggetti che nei precedenti anni sono stati impegnati appunto in questo settore una battaglia questa dell'albo unico portata avanti nella scorsa legislatura dall'onorevole Vincenzo Figuccia e che la prossima settimana molto probabilmente si concretizzerà in legge a questo torto subito dai lavoratori si cerca di rimediare o quantomeno si cerca di intervenire al loro favore iniziando un percorso queste 6.000 persone attraverso l'avviso 1 che guarda la formazione ordinaria l'avviso 2 che guarda l'obbligo formativo l'avviso 8 rispetto al quale si attende la sentenza del Tar dovrebbero almeno per un 50% essere riassorbiti cambierà che gli enti non potranno assumere con assoluta discrezionalità facendo riferimento a soggetti che magari non hanno alcuna esperienza e che vengono richiamati a compiere una serie di azioni in ambito lavorativo parliamo del teatro stabile di Catania oggi la presentazione del nuovo cartellone legato alla stagione 2018-2019 luci e ombre nella conferenza stampa per l'incontro avuto con i lavoratori dell'ente senza stipendio da tre mesi grande partecipazione questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della stagione della stagione di prosa 2018-2019 del teatro stabile di Catania un evento molto atteso che apre uno spiraglio di luce nella travagliata storia del teatro Verga intanto oggi è stato fatto un primo passo in avanti verso la risoluzione dello stato di allarme proclamato nei giorni scorsi dai sindacati nei confronti dei dipendenti che da tre mesi non percepiscono lo stipendio prima della conferenza infatti si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali e la direzione del teatro per noi è importantissimo questa conferenza stampa l'annuncio della stagione perché parliamo di teatro il teatro da fare in un momento in cui il nostro ente si appresta a uscire da una situazione di estrema difficoltà come è noto da ieri noi stiamo già pagando tutti i creditori in forza del piano di risanamento abbiamo fatto i bonifici è una cosa straordinaria perché non era per niente sicuro che ci riuscissimo oggi la stagione sarà presentata dal nuovo direttore Laura Sicignano una persona che sta mettendo una passione enorme in questo lavoro e come sempre nella vita ci sono luci e ombre ancora soffriamo dal punto di vista finanziario quindi i nostri lavoratori non percepiscono lo stipendio da tre mesi questa è una spina nel cuore di ciascuno di noi e quindi tutte le nostre energie sono indirizzate a risolvere anche questo problema titolo della stagione teatrale connessioni umane a parlarne è la nuova direttrice del prestigioso teatro catanese Laura Sicignano che ha una variegata storia artistica alle spalle originaria di Genova è regista e drammaturga e ha gestito e diretto diversi teatri questa stagione parla di argomenti che ci sono molto vicini argomenti del presente parla alle persone delle loro storie lo fa attraverso nuova drammaturgia lo fa attraverso i grandi classici la stagione è popolata da un carosello di attori straordinari di tutta Italia di livello altissimo ma al tempo stesso le nostre produzioni catanesi andranno in Italia in una bellissima tournée a portare l'immagine della città come un'immagine vincente e positiva breve pausa pubblicitaria ci ritroviamo subito dopo per parlare di sport stanco del traffico cittadino con la nuova integrazione AMT-FCE puoi prendere autobus e metropolitana con un solo abbonamento scegli quello che fa per te e sali a bordo per maggiori informazioni visita amt.ct.it o circometnea.it ti prepari a scalare l'Etna per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa patrimonio dell'UNESCO la funivia dell'Etna da oltre 50 anni con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada ti porterà fino ai 3000 metri di quota funivia dell'Etna come stare seduti sul divano di casa e se sei un tour operator contattaci grazie a tutti parliamo di calcio il Catania si compatta per preparare l'impegno playoff del prossimo 30 di maggio intanto arrivano buone notizie dall'infermeria per Cristiano Lucarelli I playoff si avvicinano e con essi il tempo delle verità dal 30 maggio non si potrà più sbagliare gare andate e ritorno che varranno il pass per le semifinali e il Catania sta lavorando duramente per arrivare pronto all'appuntamento sia atleticamente che mentalmente le ultime notizie che arrivano da Torre del Grifo sono positive si svuota l'infermeria Cristiano Lucarelli ritrova in gruppo pezzi importanti per l'assalto alla Serie B partiamo dalla retroguardia con Luca Bogdan e Luca Tedeschi che sono nuovamente in gruppo e totalmente recuperati dagli acciacchi fisici delle ultime settimane saranno loro insieme ad Aia i pilastri difensivi per gli spareggi difesa che ha rappresentato per gran parte della stagione uno dei punti di forza della compagine etnea chi ancora non è al top della condizione mai rientrato in gruppo è Francesco Lodi il numero 10 rossazzurro ha superato il problema all'adduttore e avrà più di 10 giorni per ritrovare la forma ideale il fantasista Campano quest'anno ha realizzato sette reti e potrebbe senz'altro rappresentare specialmente su calcio piazzato un'arma decisiva quando il pallone inizierà a pesare unico ma grande interrogativo sempre debba essere quello legato al bomber quel Davis curiale capace di andare a segno 15 volte in regular season elemento a cui Lucarelli di certo non rinuncerà l'attaccante lavora infatti ancora a parte ma le sue percentuali di recupero entro la data X sono in aumento il Catania in allenamento anche da un punto di vista mentale con l'avvento dei mental coach Vassalle e Tavoletti che punta decisa al target finale e proprio in casa del Catania al centro sportivo di Torre del Grifo si è tenuta la prima edizione del simposio internazionale sullo sport evento che ha riunito alle pendici dell'Etna esponenti della federazione italiana gioco calcio giornalisti illustri e dirigenti Un'occasione prestigiosa una manifestazione utile per commentare e analizzare alla presenza di illustri ospiti giornalisti e dirigenti l'andamento del movimento sportivo nazionale in tutta la sua interezza concentrandosi sull'aspetto politico e quello puramente agonistico Si è svolto quest'oggi a Torre del Grifo il primo simposio internazionale sullo sport evento patrocinato dal CONI e che vedeva partecipare autorevoli rappresentanti di istituzioni sportive nazionali oltre alle categorie di avvocati e commercialisti Xavier Iacobelli Giorgio San Giorgio Giuseppe Sapienze Enrico Cataldi il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il commissario FIGC Roberto Fabricini sono alcuni dei nomi presenti al nucleo di conferenze e dibattiti che hanno visto l'intervento iniziale dell'amministratore delegato del Catania Pietro Lomonaco Un evento molto importante anche la connotazione di un simposio internazionale da sicuramente da lustro e riceve da una struttura straordinaria uno dei centri sportivi più belli che siano stati realizzati in Italia motivo di orgoglio anche per una Lega che è la Lega Pro a dimostrazione che Catania è una di quelle società di grande riferimento all'interno della nostra Lega Il progetto seconda squadra è già praticato attuato in altre realtà in altre federazioni in Europa ma hanno avuto modi, tempi e soprattutto delle regolamentazioni che hanno dato un vantaggio un valore aggiunto al calcio di casa Ho accettato di buon grado l'invito ad essere oggi qui fra tutte le mille cose che abbiamo in federazione ma credo che sia stato ben premiato questo mio impegno di venire perché ho visto una realtà importante una realtà molto bella non la conoscevo conosco bene Catania conosco bene la Sicilia non conoscevo questo centro è un centro fantastico e anche l'attività che ci si svolge oggi è un'attività importante credo che sia una acculturazione che noi diamo al mondo dello sport lo dobbiamo dare con costanza con puntualità e credo che ogni volta che potremo fare di queste cose faremo il bene indirettamente dello sport italiano dalla questione economica alla stabilizzazione dei conti per le realtà sportive con un occhio attento sulle squadre siciliane fino alla parte meramente politica il ruolo degli agenti e dei procuratori il simposio internazionale sullo sport conferma la grande stima del CONI e della federazione nazionale nei confronti di Catania in ambito calcistico e sportivo ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale prima di chiudere vi lascio con un servizio curato dal nostro ufficio commerciale grazie per averci seguito da parte mia e dell'intera redazione di Ultima Tg l'augurio di una buona serata Catania ancora una volta protagonista grazie a Thun l'anfiteatro romano e i palazzi barocchi del centro storico hanno fatto da cornice all'imperdibile evento che ha inaugurato il nuovo store una storia lunga oltre 60 anni quella di Thun nata da una piccola officina trentina che oggi vanta più di mille punti vendita in Italia e nel mondo le loro creazioni hanno accompagnato gli eventi più importanti della vita dei loro clienti è un momento importante rappresento la terza generazione è stato un percorso lungo l'anno prossimo facciamo 60 anni di storia e quindi un percorso dove ne sto entrando sono da circa 4 anni in azienda e sento che il mondo soprattutto del retail sta cambiando la digitalizzazione il consumatore ci sono nuove esigenze ci sono nuove necessità da costruire da venire incontro aprire nel centro storico di Catania con una location dove siamo oggi per noi è un grande punto d'arrivo abbiamo un legame forte al territorio nazionale già dai tempi di mia nonna che ama queste terre e soprattutto la città le loro collezioni ogni anno incantano migliaia di persone con proposte che pur attingendo dalla tradizione sono sempre rivolte verso il nuovo tante le novità presenti tra queste un corner interamente dedicato alle collezioni di bomboniere dove i clienti verranno coccolati e seguiti dal momento della scelta del prodotto fino a quello della confezione del dono realizzata con materiali altamente ricercati questo concept come dicevo l'abbiamo disegnato appositamente per questa location abbiamo ideato un corner bomboniera una boutique bomboniera all'interno della quale ci troviamo attualmente dove con più particolare con più attenzione cerchiamo di confezionare il regalo per il momento più speciale dei nostri clienti madrina ad eccezione dell'evento l'attrice Diana del Bufalo wow siete fantastici perché siete riconoscibili wow siete molto versatili complimenti il nuovo toon store si trova nel salotto della città in Vietnea 121 accanto a piazza Stesigor Piazza no 1 1 2 1 2